facciamo la candela ecologica e profumata della nonna contadina usando un metodo fai da te velocissimo riciclando bicchierini lesionati oppure oggetti da buttare via abbiamo bisogno di strutto ovvero olio denso polvere di arancia di mandarino una piccola ciotola e gli oggetti che volete buttare via mettiamo lo strutto chiamato anche sugna in ciotola aggiungiamo la polvere di arancia la polvere di mandarino mescoliamo tutto insieme fino a quando gli ingredienti non sono ben amalgamati prendiamo lo spago e misuriamo l'altezza degli oggetti tagliamo adesso ricopriamo il fondo delle tazze o bicchierini da riciclare con la miscela infiliamo lo spago pressandolo nel composto continuiamo ad aggiungere la miscela fino sotto l'orlo dell'oggetto spalmiamo attorno allo spago e aggiungiamo ancora miscela fino al bordo dell'oggetto usiamo lo stesso procedimento anche gli altri oggetti a nostra disposizione con un pezzo di carta ripuliamo accuratamente i bordi ed ecco fatto le nostre candele ecologiche fatte con il metodo della nonna sono pronte adesso non serve più nulla basta soltanto accendere e godere il loro profumo accendiamo le nostre candele ed ecco la candela ecologica emana luce e profumo praticamente in 5 minuti abbiamo creato 7 candele se ti è piaciuto il video lascia un like ed iscriviti al canale così da rimanere sempre aggiornato ciao e buona creazione